Il nostro progetto qui a Innovation Village stiamo portando un biomateriale del quale noi abbiamo il brevetto e nanocellulosa batterica partendo dagli scarti di lavorazione soprattutto del mercato frutticolo in particolare. Quindi noi abbiamo un pool di microorganismi che lavora e genera un materiale che può essere utilizzato in vari ambiti dal design alla cosmetica al tessile e quindi siamo qui con tutte queste cose a disposizione.